Allora che è lungo, a Torralba, potete trovare anche le mangiatoie, se ne avete bisogno. Qua c'è la mangiatoia all'ingresso. I turisti, questo è il periodo, i turisti fanno le mancanze, ci sono due cartelli, grandi, nuovi, la gente viene a visitare, ma se si trova in queste condizioni è meglio non visitarlo niente. Questa è la gestione dei siti archeologici in Sardegna. Il minuto dimora per le pecore. La gestione dei siti archeologici migrato sono Про Iscriviti al canale